Alex Belli. La sua ex Mila Suarez non ha dubbi. E, attratto da Soleil sorge. GF VIP 6. Alex Belli è attratto da Soleil sorge come una calamita. La sua ex Mila Suarez non ha dubbi. GF VIP 6. Alex Belli concorrente del GF VIP 6. Prima di varcare la famosa Porta Rossa ha diffidato la sua ex Mila Suarez. Quest'ultima dopo aver lanciato delle frecciatine all'attore sui social, ha rotto il silenzio sulle pagine del settimanale di più. La showgirl e fashion blogger questa volta però ha scritto una lettera al suo ex. Con cui ha avuto una storia d'amore dal 2016 al 2018. Tra le tante parole, Mila ha espresso il suo parere sul fatto che Alex vada molto d'accordo con Soleil sorge affermando. Lei ti ha subito attratto. Lo vedo dai tuoi occhi. Tua moglie è destinata a soffrire. Come ho sofferto io. Sei stato attratto da Soleil come una calamita con il ferro. Alex Belli interessato a Soleil sorge al GF VIP 6? La sua ex Mila Suarez. Ti è piaciuta subito? Mila Suarez una modella marocchina nota soprattutto per aver avuto una storia d'amore con Alex Belli. Un protagonista della sesta edizione del GF VIP si è fatta sentire ai microfoni del settimanale di più. La showgirl e fashion blogger è arrivata a sostenere che l'attore non rispetti sua moglie Delia Duran. Visto che ha dichiarato. Alex tu sei abituato a fingere. Lo hai fatto in passato con me e farai lo stesso con tua moglie Delia. La modella 32enne inoltre si è espressa anche sulla vicinanza tra il suo ex e Soleil sorge nella casa di Cinecittà. Ti è piaciuta subito? L'ho capito da come l'hai sempre guardata. Ti ho visto mentre la seguivi con lo sguardo e parlavi con lei spostando il tuo ciuffo con quel classico sguardo languido che ben conosco. GF VIP 6. Alex Belli presto ti rivelerai per quello che sei. Parla la sua ex Mila Suarez. Mila Suarez inoltre riferendosi al fatto che il suo ex Alex Belli dopo aver elogiato Soleil sorge definendola una ragazza magnetica. Ha fatto un passo indietro specificando che non la vorrebbe mai come fidanzata ha aggiunto. Anche se cerchi di controllare ogni tuo respiro nella casa. La maschera sta scricchiolando e sono convinta che presto ti rivelerai per quello che sei. Un infedele. Dopo aver ribadito che secondo lei arriverà il momento in cui l'attore getterà la sua maschera. La modella ha svelato dei retroscena sulla loro passata storia d'amore. Tu eri veloce. Cancellavi i messaggi. Ogni tanto. Però qualcosa sfuggiva. Ma avevi sempre una buona scusa e io innamorata credevo a tutto. Mi sono umiliata perché credevo in te. Il fondo l'ho toccato verso la fine della nostra storia quando mi hai chiesto di rifarmi il seno e il naso. Mila dopo aver confessato che negli occhi di Delia Duran le sembra di vedere i dubbi che Lei aveva quando stava con Alex che a detta di Andrea Casalino è uno stratega che calcola tutto. Ha assicurato. Sono pronta a scommettere che al GF VIP prima o poi tradirai. Soprattutto te stesso.